buonasera a tutti ciao luca ciao alessandra benvenuti a questa nuova puntata per parlare di intelligenza artificiale sul canale stem allora la puntata precedente con il professore a tardi abbiamo un po cercato di spiegare cosa sono questi large models di cui tanto si parla e le polemiche legate alla famosa lettera che ne chiedeva in qualche modo la sospensione per un certo periodo di tempo ovviamente le spiegazioni hanno generato ulteriori domande ulteriori polemiche quindi abbiamo pensato bene di fare un'altra puntata questa volta facciamo fra di noi per chiacchierare un po dei punti che sono stati discorsi quindi quello che faremo oggi sarà un po di lavorare insieme su alcune delle lette su alcuni diciamo degli articoli che sono usciti nel frattempo e commentare anche un po delle delle osservazioni che sono emerse sotto lo scorso video come sempre vi ricordo se non siete ancora iscritti al libri oltre iscrivetevi al libri oltre se non avete se non siete iscritti al canale stem iscrivetevi a stem e in ogni caso fateci sapere nei commenti cosa pensa del video e cosa volete di cosa volete che parliamo successivo qui io lascio la parola cominciamo con passo la parola a luca che penso comincia a raccontare un po qualcosa sì grazie paolo buonasera a tutti e niente allora vabbè ripartiamo dal dal punto principale che aveva fatto nascere un po tutta questa discussione che era anche il motivo per cui avevamo invitato giuseppe a tardi la la scorsa volta era per parlare di questa lettera aperta del the future of life institute che è stata firmata da insomma sia eh personalità molto di spicco del campo della ricerca dell'intelligenza artificiale sia da anche imprenditori del sempre nel campo del dell'informatica o dell'intelligenza artificiale e chiedevano eh sostanzialmente la sospensione di eh sei mesi eh alla ricerca o meglio agli esperimenti di addestramento di modelli di artificial intelligence e in particolare di large language models quindi quelli che qui si basa per esempio chat gpt per predire per generare eh testo plausibile di almeno eh sei mesi eh quali erano le ragioni di eh questa lettera ce ne sono eh allora viene impostata con uno stile un po retorico in un certo senso e in effetti eh possiamo vederlo specialmente già dal secondo paragrafo di questa lettera quando si comincia a chiedere queste domande qua per esempio should we automate away all the jobs including the fulfilling ones quindi dovremmo davvero lasciare a questi strumenti di intelligenza artificiale la la possibilità di di automatizzare tutti i nostri lavori inclusi anche quelli che loro chiamano fulfilling cioè eh soddisfacenti eh per cui penso che si riferiscano in particolare i lavori di tipo artistico in effetti a parte i large language models tipo chat gpt esistono anche altri modelli eh generativi per esempio per per disegnare immagini come dalli eh miggiorni eh eccetera e e quindi questo sembra già portare anche a una come dire una questione che anche lavori più creativi potrebbero essere soppiantati dall'utilizzo di di modelli di intelligenza artificiale eh la seconda è should we develop non human minds that might eventually outnumber outsmart obsolete and replace us cioè dovremmo sviluppare davvero delle menti non umane mettiamo a loro che potrebbero a un certo punto beh eh diventare più numerosi di noi quindi cioè saremmo in inferiorità numerica essere più intelligenti di noi e renderci obsoleti e quindi a quel punto eh rimpiazzarci rimpiazzarci e infine should we risk loss of control of our civilization e quindi c'è ovviamente la cosa di lungo termine la catastrofe sarebbe che perderemmo poi il controllo della nostra stessa società della della civiltà umana e le macchine ci ci rimpiazzerebbero in un in un certo senso e quindi quello che dicono loro è che questi sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere eh costruiti o sviluppati soltanto una volta che siamo sufficientemente ragionevolmente sicuri che i loro effetti saranno cioè facendo diciamo un trade off tra costi e benefici saranno più i benefici dei dei costi e i rischi in particolare che hanno elencato sopra eh saranno saranno gestibili entro determinati limiti eh quindi per questo dimmi pure posso interrompere un secondo se torni un attimino a far vedere questi tre rischi io trovo molto interessante come è stata impostata questa discussione perché questo è un classico esempio di framing cioè fondamentalmente si imposta la discussione si fanno delle premesse senza dirle in realtà si eh si mettono direttamente nelle domande che si pongono per cui poi il resto della discussione ne segue logicamente in qualche modo cioè se io dico should we risk loss of control of our civilization e dice è che se bischero no è ovvio che non vogliamo rischiare di perdere il controllo della civiltà il punto è che facendo questa domanda abbiamo automaticamente ammesso che il rischio esiste ed è un rischio ragionevolmente tra quelli che possiamo quantificare e che possiamo discutere mentre non abbiamo messo niente diciamo se io se avessi messo qui dobbiamo rischiare di sviluppare un'intelligenza artificiale che garantisca la pace mondiale e prevenga la prossima terza guerra mondiale nucleare la domanda sarebbe stata un po' diversa però dal punto di vista della credibilità cioè di quello che ci possiamo aspettare in termini reali la domanda che ho fatto io ha esattamente lo stesso livello di predicibilità e di attendibilità rispetto alla domanda che è stata fatta qui questo è un esempio di come si imposta una discussione in modo che sembri una discussione libera diciamo una riflessione intellettualmente onesta in realtà non dico che disonesta dico che è un po come dire le premesse prevedono dice per come ho scritto le premesse il risultato non esegue di cose perché ora se fai un paper accademico va bene perché tu vuoi far passare la tua tesi qui stiamo facendo un ragionamento generale di policy dove probabilmente c'era un po da fare un'operazione un po più 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 delicata beh qui mi inserisco perché in effetti se conoscete più o meno il future of life future of life institute hanno proprio come mission le prime tre righe è di guidare la tecnologia affinché sia di beneficio agli esseri umani alla vita ed evitare i rischi quindi anche in questo senso è ovvio che siano molto ma molto biased nei confronti dei rischi e anche una critica che si può fare a questa e che se è vero che questi rischi ci sono è troppo inclino a guardare questi senza invece poi andare a guardare quali possono essere i benefici di questa stessa tecnologia perché come anche per fare un altro esempio la bomba la bomba atomica l'energia nucleare può essere estremamente distruttiva ma fornisce anche energia dunque bisogna prendere tutto con un grano salis quindi adesso mi taccio e non con la discussione però è enorme lo trovo trovo normale che proprio da questo institute arrivi una lettera così inclina a guardare solo un lato della medaglia esatto sì il problema è che proprio sono per qualche motivo sono proprio fissati sul sui risultati peggiori che tra l'altro potrebbero succedere di qui a non si sa neanche qua non si sa che tipo di rischi di risultati brutti cercano di evitare perché comunque queste domande sono domande retoriche però davvero sono troppo generiche per effettivamente capire che cosa è che stanno intendendo e in secondo luogo non dicono non danno neanche un orizzonte temporale potrebbe essere qui presumibilmente a potrebbero anche essere secoli o cose del genere quindi hanno questo difetto diciamo di fissarsi sul lungo termismo troppo sul lungo termismo e ignorare invece poi dopo cosa che è stata notata da molti critici di questa lettera sui rischi invece che di breve brevissimo periodo anche quelli che già ci sono adesso nell'utilizzo di sistemi di artificial intelligence per esempio il fatto che abbiano delle facciano delle classificazioni distorte abbiano dei riproducano e amplifichino dei bias sociali e culturali degli esseri umani e per cui quindi per esempio ci sono sistemi di riconoscimento facciale che tendono a trovare a riconoscere come criminali persone di colore o cose del genere e ovviamente è una una fallacia si chiama una base rate fallacy in quel caso e ho tutto questo tipo di problematiche anche relative alla privacy per esempio dei dati che vengono gestiti da da questi modelli eccetera eccetera andando per punti su questa sulle varie cose che dicevano in questa lettera uno dei primi diciamo problemi anche che in qualche modo si legge tra le righe del testo è il fatto che è stato anche in qualche modo come dire preso in considerazione dal provvedimento del garante in italia e cioè la faccenda della disinformazione del fatto che questi strumenti potrebbero essere utilizzati per costruire in maniera ancora più efficiente per produrre in maniera ancora più efficiente fake news a manetta che inonderanno l'internet al punto in cui che arriveremo in una situazione in cui non saremo più in grado di distinguere cosa è vero da cosa non è vero in realtà su questo c'è stato già un debunking comunque una contro argomentazione da parte di arvin narayanan altro ricercatore che si occupa di intelligenza artificiale in particolare lui si occupa di fare debunking di quello che chiama AI snake oil quindi dall'olio di serpente relativo all'intelligenza artificiale dove olio di serpente si intende la classica il modo in cui si definisce diciamo la pseudoscienza in un qualche modo sono era se ricordo bene erano quei quelle persone che viaggiavano con la carovana diciamo per il vecchio west e vendevano diciamo queste boccette di miracoloso olio di serpente che curavano praticamente qualsiasi male ovviamente non facevano un tubo comunque il il problema delle campagne di disinformazione della creazione di fake news si focalizza in questo caso su sul problema della produzione il problema è che o meglio problema l'osservazione che farvi narayanan è che non è tanto un problema di produzione di fake news quanto di distribuzione e soprattutto di riuscire a raggiungere i bersagli di quella disinformazione per esempio quando si fa il caso dello spam se ci si ricorda in realtà lo spam che funzionava almeno all'inizio quando era quando internet aveva iniziato a diffondersi erano le truffe quelle più stupide banali se le leggiamo adesso il famoso sono un principe principe nigeriano per piacere mandami un bonifico di di mille dollari quello che è ti farò l'uomo più ricco del della terra e ci sono stati degli studi del perché effettivamente questi truffatori facevano così cioè non cercavano di fare delle truffe un po più elaborate perché sostanzialmente dicevano vabbè noi tanto le mandiamo a milioni di individui questi mail queste truffe chiaramente sono palesemente false queste cose qui ma se riusciamo a trovare sui grandi numeri anche soltanto un manipolo di persone che ci risponde ecco già questo è segno che probabilmente crederanno a qualsiasi altra scemenza che gli propiniamo quindi in realtà non è tanto un problema relativo a costruire delle come dire delle fake news che diventino sempre più elaborate che diventino sempre più difficile da distinguere da informazioni vere diciamo informazioni fattuali è più una questione di distribuirle e di far credere le persone a questa questa cosa a queste fake news e appunto per per questo motivo a parte il fatto che anche nel caso in cui ci si volesse preoccupare del problema delle fake news costruite da modelli di intelligenza artificiale si stanno studiando metodi per poter distinguere in qualche modo i testi che vengono creati da large language models come come chat gpt per esempio da testo invece umano quindi quello è effettivamente un problema ben definito diciamo la il fatto di riuscire a distinguere un testo vero da un testo falso viene da un testo generato dall'intelligenza artificiale ed è in corso di studio da parte di svariati ricercatori però appunto il fatto è che al momento l'evidenza che abbiamo a disposizione è che non c'è cioè i modelli i large language model come ce li abbiamo già adesso e anche quelli che c'erano qualche anno fa in realtà erano già più che sufficienti per poter costruire fake news a una scala diciamo molto molto grande e il fatto è che per quanto ne sappiamo non è successo nessuna catastrofe in questi ultimi anni rispetto a questa cosa cioè sì il problema delle fake news c'è ma non pare che questo tipo di strumenti siano stati utilizzati in modo massivo per portare diciamo la battaglia delle fake news a tutto un altro livello rispetto a quello che conosciamo oggi se mi permetti Luca eh in realtà ci pensiamo eh una grossa fetta di quello che gira su Twitter su su Twitter su dovrebbe dire anche sui siti di informazione tradizionali sono se non fake news eh diciamo noti su Twitter spesso sono fake news sui siti di informazione tradizionale sono notizie di qualità inferiore allora il punto vero se vuoi non è tanto il problema in questo caso non è tanto il problema che c'è il rischio di una di un'innovazione di fake news ma di un rimpiazzo di di lavoro da parte delle persone che normalmente sono impegnate a produrre queste a fare campagne di informazione con sistemi informatizzati che di fatto gli elevano il lavoro tanto per capirsi tanti giornalisti rischiano di trovarsi di trovarsi a spasso perché c'è qualcuno più bravo di loro e più eh più economico di loro a scrivere eh notizie fasulle a parte la battuta il punto fondamentale che in Italia ma non solo in Italia c'è un già adesso un enorme problema di qualità e di affidabilità di informazione eh usare il modello per dire e se arriva questo succede un disastro il punto è in realtà se vogliamo liberi oltre nasce in proprio per fare l'esatto opposto di questo cioè per dire guardate che il mondo è un posto talmente complicato talmente pieno di gente che racconta fesserie che dobbiamo prendere le persone e metterci direttamente la faccia fare in modo che siano credibili dal punto di vista dei cv e poi allora possiamo raccontare delle notizie che hanno un minimo di senso perché se no quello che succede è solo un grosso mischione in cui si racconta tutto il contrario di tutto e non si capisce più nulla. Eh sì esatto faccio evidenzio velocemente questo commento di di Ugo Amaldi dice ma questi strumenti non sono troppo intensivi e costosi per essere usati in questo modo per creare fake news in realtà allora adesso c'è una grossa c'è anche una specie di equivoco che si sta formando eh specialmente all'interno della della comunità accademica per cui sembra che il problema sia soltanto una questione di fare delle cose sempre più grosse che è più o meno anche il tono di questa lettera qui dice noi dobbiamo fermare dei sistemi eh cioè chiediamo che venga sospeso l'addestramento di sistemi di artificial intelligence che siano più potenti di chat di gpt4 pardon il che vuol dire presumibilmente che eh si riferiscano a modelli che hanno ancora più parametri di quelli che vengono utilizzati nel training di di gpt4 e e che quindi servono ancora più eh risorse eh in realtà adesso il la tendenza specialmente fuori dalla dalla ricerca accademica cioè proprio nel nel mondo del dell'industry è di cercare di mettere questi large language models ovunque e quindi cercare di fare dei eh cercare di renderli il più compatte possibile in modo che possano girare per esempio sul sul vostro telefonino sul vostro smartphone e Paolo poi ti ha già fatto anche vedere nella nella chat dell'intelligenza artificiale stanno saltando fuori un sacco di strumenti di tool open source per potersi fare il proprio chat gpt eh in casa quindi adesso c'è più una tendenza a renderli utilizzabili per tutti e a parte questo anche una tendenza a collegarli diciamo con con il mondo reale quindi a renderli in certo senso quelli che chiamano degli agenti cioè che possano oltre a predire testo anche eh fare delle azioni che hanno delle conseguenze nel nel mondo reale quindi eh quindi in realtà si cioè si potrebbe in teoria utilizzare questi sistemi anche per costruire fake news in modo economico almeno magari non al momento però comunque la strada più avanti potrebbe essere quella eh però il fatto è che in realtà si si poteva già fare prima questa cosa e non sembra esserci alcun cioè non sembra esserci essersi presentato questo problema al momento poi comunque si rimane sempre problema che eh una uno dei rischi effettivamente di breve periodo e questo effettivamente credo anch'io che dovremmo cercare di eh risolverlo di gestirlo quantomeno il prima possibile sia a livello tecnologico che che di regolamentazione e il problema effettivamente di distinguere se tu trovi un testo così a caso su su internet vuoi effettivamente capire se questo è stato scritto da un essere umano o da chat GPT o da qualcosa di simile ci sono una marea di casi in cui uno potrebbe voler fare una cosa del genere il caso più eclatante insomma quello più più palese è quello degli esami all'università quando bisogna scrivere eh dei saggi eh adesso ci sono sai ma ci sono state diverse notizie di eh professori che ormai sembrano rassegnati all'idea di dire vabbè ormai è tutto finito eh chiudiamo tutto perché tanto ormai gli studenti passano l'esame scrivendo un saggio tramite chat GPT e non siamo in grado di vogliono addirittura ritornare a carta e penna per scongiurare però una domanda in questo senso è ci sono dei tool che teoricamente dovrebbero agevolare eh il captare comunque stanare testi generati da intelligenza artificiale quanto sono affidabili quanto sono aggirabili se sono degli strumenti validi e magari con uno sviluppo anche un pochino più affinato. Stavo stavo giusto seguendo oggi un nuovo podcast di dove hanno intervistato Scott Aronson che è un informatico teorico che si occupa principalmente di quantum computing e teoria della complessità computazionale però adesso si è preso tipo una specie di anno di non esattamente un anno sabbatico ma una roba simile per andare a lavorare ad OpenAI nel loro reparto di AI safety e si sta occupando proprio dello sviluppo di tecniche per capire quando un testo è stato generato da un essere umano o da eh da un large language model e faccio vedere diversi metodi per poter cercare di risolvere questo problema dal punto di vista tecnologico. Il primo è vabbè logo tutto tutte le sessioni di di chat GPT eh le vengono logate da da OpenAI quindi se le ritroveranno nel loro eh nel loro database e e poi più avanti se uno vuole verificare se un testo è stato scritto effettivamente da chat GPT o no vanno a fare un look up in questo in questo database e vedono se c'è ovviamente questo è un problema grossissimo a livello cioè già pratico nel senso che bisogna davvero memorizzare una marea di roba e poi ovviamente ci sono degli ovvi problemi di privacy nel senso che sta roba andrebbe decisamente contro alla eh 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 ai terms of use che hanno già messo in in piedi per per l'utilizzo di questo strumento altrimenti ci sono eh diciamo il secondo passo sarebbe quello di utilizzare degli strumenti di utilizzare una rete neurale a sua volta c'è un altro sistema di intelligenza artificiale per cercare di discriminare cosa è vero da cosa è falso eh questa è una cosa che si vede spesso eh in in alcuni sistemi che utilizzano le cosiddette GANS o Generative Adversarial Networks dove voi avete sostanzialmente due reti neurali una generativa che diciamo genera per esempio un'immagine un testo o quello che volete voi e viene eh addestrata in maniera simile poi vabbè ci sono un po' di di dettagli ma comunque simile a come viene addestrato chat GPT per generare testo e dall'altra parte avete un'altra rete eh discriminatrice eh alla quale vengono sottoposti mano mano dei eh degli input e non gli si dice alla rete se sono degli input veri cioè se sono stati creati da un essere umano o se sono stati creati dalla rete generativa e quello che deve imparare questa rete è riuscire a discriminare quelli veri da quelli falsi dopodiché questo eh la sua classificazione se diventa buona allora diventa un feedback per raffinare il modello generativo in in modo ciclico no? E quindi c'è questa specie di gioco competitivo tra queste due reti in modo da eh avere sempre eh migliori eh reti generative da una parte che generano testo e reti discriminatorie che discriminano il vero dal falso dall'altro. Il problema è che questo poi rischia di diventare cioè un un gioco coevolutivo che non finisce mai cioè tipo un gatto che che si rincorre col topo eccetera 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 e e quindi anche questo sono delle soluzioni che stanno provando in questo momento però probabilmente avranno già questo tipo di di problemi è facile pensare che vanno. Dunque visto che voi siete tutti e due accademici vi volevo fare un'obiezione di natura eh strutturale ma secondo me quest'idea di andare a vedere i paper chi l'ha scritti se l'ha scritto un'intelligenza artificiale è un falso problema. Nel senso che eh appunto o a noi ci interessa che eh lo studente universitario sia un bravo Emanue S quindi sia bravo fondamentalmente abbia una bella calligrafia quando scrive no? E che che può essere un require perché insomma la calligrafia carina è una cosa simpatica oppure piuttosto eh renderci conto che il motivo per cui noi scriviamo paper è perché fondamentalmente noi siamo dei modelli come dire che hanno un'interfaccia testuale eh per cui siamo delle reti neurali a base biologica che hanno un'interfaccia di input a base testuale. Cioè noi non riusciamo a leggere un testo scritto con un file format come un elenco di punti e a capire qual è tutto quello. Cioè lo riusciamo a fare ma c'è scomodo. Vogliamo un discorso dove c'è un soggetto, un predicato, un complemento, un sviluppo logico e così via. Ma questo se vogliamo è semplicemente un sovrastruttura che serve ad arricchire la comunicazione in modo da renderla fruibile appunto per l'essere umano. Quando in realtà nei paper molto spesso quello che uno cerca di dire è dice vabbè ma quali sono i tre punti che effettivamente mi vuoi andare a raccontare? Qual è il ragionamento logico che stai facendo? Uno, due, tre, quattro. Ovviamente se lo scrivi così nessuno te lo legge. Però se una volta che capi quello che tu puoi fare con chat GPT è dire guarda io voglio trattare questo punto, questo punto, questo punto e questo punto. Scrivimelo e poi lui se vuoi riempie gli spazi ma la struttura logica, il ragionamento, l'impostazione del paper e le conclusioni di fatto le hai create. Esempio che faccio io, io volevo preparare un peperino stupido, un esempio stupido dove volevo collegare un episodio che avevo letto su Ernesto Sirolli con un fatto di sviluppo del software. Gliel'ho chiesto di fare, gli ho detto qual era il ragionamento logico, gli ho detto di scriverlo con uno stile molto brillante in inglese, lui l'ha fatto, io non avrei mai potuto scriverlo perché non ho quel tipo di padronanza dell'inglese, però di fatto diciamo che il ragionamento era il mio, tutto lo sviluppo, diciamo tutta la scrittura pratica era sua. Ecco questa cosa qui, l'impressione che ho io è che l'università in questo momento non si è in grado di gestirla, nel senso che quello che sta, perché probabilmente i paper che chiede di scrivere sono talmente semplici, cioè prevedono ragionamenti così semplici, così poco originali, che di fatto sono rimasticature di cose già fatte dentro chat GPT, cioè non è che il paper non è che deve dimostrare quanti punti originali sai fare, ma il fatto che ha una minima abilità a scrivere. Sì, qui c'è una distinzione tra la produzione scientifica che si fa a un certo livello e invece quelle produzioni che si richiedono a degli studenti che stanno imparando, normalmente almeno per quanto concerne poi la mia esperienza in università, magistrale eccetera, quando viene richiesto un paper tendenzialmente appunto una rielavorazione, dimostrazione di comprensione di un testo, di un libro, di un paper e eventualmente un commento, un'aggiunta personale. In questo contesto sicuramente viene più semplice l'utilizzo di uno strumento che può essere chat GPT che comunque va preso con le pinze perché sappiamo benissimo tutti che è soggetto alle cosiddette allucinazioni, quindi mai chiedere riferimenti bibliografici perché se li inventa di sana pianta, come si inventa di sana pianta anche gli articoli, c'è un articolo sul Guardian dove si riportava che alcuni giornalisti ricevevano delle mail con richieste di articoli che avevano scritto loro con titoli plausibili ma che erano stati assolutamente inventati da chat GPT, uguale per riferimenti a paper, a pubblicazioni scientifiche. Quindi bisognerebbe comunque stare molto attenti e per quanto riguarda la produzione scientifica vera e propria, quindi la creazione del sapere a un livello accademico, quindi a un livello di un PhD student o di un post-doctoral researcher e quant'altro, è assolutamente fuori discussione, anzi mi stupirebbe un chat GPT che riuscisse a produrre qualcosa del genere, anche perché questi lavori implicano la produzione di conoscenza nuova, cosa che per definizione chat GPT non è in grado di generare chat GPT, è in grado di infilare una parola dopo l'altra e come hai benissimo detto tu, è in grado magari di seguire delle indicazioni molto precise che tu gli dai, quindi se tu gli dici generami un titolo per questo, per un paper accademico in questo settore che abbia questo abstract, il titolo te lo genera anche bene, per dire o ti può generare una struttura di un paper, ma non puoi fargli generare la conoscenza, quella ce la devi mettere tu, per quello che le università paradossalmente sono molto più preoccupate degli studenti che dei ricercatori stessi, perché nel caso dello studente diventa più semplice, perché se ti dicono di scrivere un paper su un argomento che è già stato ampiamente ricercato, ampiamente studiato, chat GPT può trovare di tutto, o ancora prima non a livello universitario, a livello delle superiori, ho sentito molto più di una persona dire che i figli, prima che chat GPT fosse bloccato, i compiti si facevano aiutare a farli dall'intelligenza artificiale, però di questo stiamo parlando, non siamo, anche qui tutti i discorsi sulla superintelligenza, anche sulla, adesso non ricordo bene come veniva chiamato, sulle capacità emergenti anche, per quanto mi riguarda lasciano un po' il tempo che trovano, quantomeno per il large language model, perché provate a diraggia a GPT di produrre un paper su qualcosa che non è ancora stato scritto, voglio vedere cosa mi è fuori faccio solo un'obiezione e poi mi taccio, è vero, il problema è che noi siamo, noi, in particolare voi, perché voi siete ricercatori universitari, siete nel mondo della ricerca, voi siete fissati con il nuovo, in realtà è un fatto, cioè è un fatto genetico, cioè a voi interessa, la roba vecchia è vecchia, insomma, per definizione, non vi interessa più, non fa fare carriera, però il punto vero è che semplicemente prendere quello che già esiste e fundamentalmente farne semplicemente delle semplici combinazioni, produce già una montagna enorme di risultati, cioè, l'esempio stupido, premiamo l'esempio stupido, supponiamo che io prendo, che ne so, Guerra e Pace e gli dico, riscrivimelo usando lo stile di Tolkien del Signore degli Anelli, no? È una scemezza, è un'assoluta scemenza, non c'è nulla di originale in una cosa del genere, però già una cosa del genere è qualcosa che è una produzione potenzialmente di grosso livello, non di grosso livello, è qualcosa che per un essere umano di fatto è impossibile, produce un contenuto non originale, ma sicuramente che non esiste in questo momento, quindi è vero che la geolanguage model non inventano, se vogliamo, la relatività generale, perché non ce la fanno, però ci sono tanti risultati che sono semplicemente, se vuoi, la conseguenza logica di quello che noi abbiamo già detto, che non siamo in grado in questo momento, che semplicemente non abbiamo espresso, non abbiamo detto, non abbiamo pensato, che oggetti come i large language model possono produrre. Questa roba, secondo me, ne uscirà da, e ci accorgeremo che ce l'è tanto. E mi taccio. Ma hai fatto chiudere una sinapsia adesso a parlare di dei modi in cui, cioè del fatto che uno dice, boh, ma effettivamente, tipo chat GPT è un large language model, crea qualcosa di nuovo, genera qualcosa di nuovo, sta semplicemente rimescolando robe che già sono state dette. Mi ha fatto tornare in mente questo bel libro, che forse un giorno ti chiederò di magari farne una puntata, se vuoi, su Libri Oltre, che è The Psychology of Invention in the Mathematical Field di Jacques Adamar, che è un matematico molto famoso, e si era interessato anche dell'aspetto, diciamo, creativo all'interno della matematica. A un certo punto fa una citazione di un poeta, Paul Valéry, che dice che in realtà, almeno secondo Paul Valéry, la creatività era sostanzialmente due cose. Da una parte c'hai un elemento che genera, nel senso che tira proprio cose a caso, e dall'altra c'hai invece un elemento che seleziona le combinazioni buone, che dice, ok, questa effettivamente è un'idea sensata e continuiamo a svilupparla. Quindi in realtà quando tu lo vedi, diciamo, astratta e ridotta queste due sole componenti, la creatività, in realtà il modo di, cioè sembra una cosa che potrebbe applicarsi anche al caso dei Large Language Models, a ben vedere, perché in un certo senso finiscono anche loro per generare tante cose, poi, che hanno un meccanismo in un certo senso di selezione, che poi quel meccanismo di selezione è più tarato sul fatto di generare delle cose che sono plausibili e non necessariamente originali, nel senso in cui lo intendiamo noi, poi quello è un altro conto. Però effettivamente l'ho visto anche in altre tecniche di intelligenza artificiale, come gli algoritmi genetici, sono proprio, fanno esattamente sta cosa qua e tant'è che ci sono anche lì degli esperimenti o comunque dei risultati sull'utilizzo di algoritmi genetici per fare lavori artistici in qualche modo. E tra l'altro questo libro qui l'ho scoperto proprio quando stavo studiando su un libro di algoritmi genetici di Godberg, se ricordo bene, c'era una citazione di Paul Valéry che era proprio, applicava diciamo al caso degli algoritmi genetici questa faccenda di dire ok, da una parte generiamo robe a caso, le mutazioni genetiche per esempio, che ci sono nell'evoluzione sia naturale che artificiale. E poi c'è tipo una specie di selezione naturale che fa il resto del lavoro e seleziona soltanto le combinazioni migliori. Quindi boh, alla fine sta faccenda della creatività, dell'originalità, dopo, diciamo, essermi fatto questa, diciamo, aver studiato queste cose qui ha cominciato a diventare molto più vaga anche per me in un certo senso. Però comunque sono d'accordo sul fatto che, per esempio relativa alla faccenda di scrivere paper eccetera, ci sono dei casi che effettivamente, probabilmente sarà perfino positivo in un certo senso, cioè spronerà per esempio i professori o i reviewer, quando si tratta invece di paper, a cercare di capire o di trovare metodi di selezione migliori in un certo senso, metodi di valutazione migliori che non sia scrivere il solito essay, il solito saggio con la solita struttura, i soliti tre punti o qualcosa del genere. A me è in mente una... scusami Paolo. Brevemente, scusa. Il punto, se vuoi, poi magari andiamo avanti, ma... brevemente, il punto è, se vuoi, 200 anni fa, se volevi essere un bravo matematico, dovevi far vedere che sapevi fare bene le moltiplicazioni, le divisioni, i conti a mano. Perché non c'erano i calcolatori e fare i conti era un pezzo importante. Siccome i matematici bravi sapevano fare i conti, esaminare il fatto di fare i conti era un buon proxy per il fatto che eri un discreto matematico. Poi, qualcuno si è inventato le calcolatrici, quindi fare i conti non è più diventato, come dire, il fatto di arrivare con un foglio pieno di moltiplicazioni molto difficile, non era più un buon proxy del fatto che eri una... che avevi una buona testa matematica, perché di fatto bastava avere una buona calcolatrice e quei conti li facevi lo stesso. Fare... noi, diciamo, adesso abbiamo lo stesso problema, se vuoi, cerchiamo di giudicare come un... se un ragazzo ha predisposizione per il metodo accademico, facendogli fare le cose che tipicamente facevano quelli che avevano predisposizione per fare gli accademici, cioè scrivere bene i paper. Solo che abbiamo inventato una macchina che scrive paper su roba già masticata, perché poi questo è il fatto vero, e improvvisamente non abbiamo più lo strumento per distinguere quello che è bene se tira sui muri da quello che può fare effettivamente collare l'accademico. Che può fare l'accademico. E... diciamo, questo è il problema che abbiamo noi in... in questo momento. E come dicevate voi, dobbiamo cominciare a capire se o riusciamo a fare il filtro della serie, ti si sgama se hai scritto qualcosa, o si fa... o ti si fa scrivere che ci... ti si mette lì al tavolino e... eh... al fatto che non c'è la penna magica, scrivi con la penna... la santa e benedetta, oppure si deve inventare qualcosa altro, oppure probabilmente ci dovrebbe inventare un altro modo di fare le prove, di sperimentare, di trovare altri proxy che ci permettano di capire se la persona effettivamente ha una certa capacità oppure no. secondo me... vai Alessandra che mi interrotto... eh scusi, è vero. Era turno di Alessandra. In realtà, col discorso che stavate facendo sulla creatività, mi è venuto in mente, ora non ricordo purtroppo dove l'avessi sentito, che in realtà l'intelligenza artificiale in alcuni casi, come per esempio nel contesto di giochi come Go, adesso non ricordo bene quale fosse, era riuscito a spiazzare il giocatore umano eh... perché aveva intrapreso delle azioni, delle mosse eh... che un essere umano cognitivamente non sarebbe riuscito a concepire, perché non so, perché pensava centocinquanta mosse più avanti che chiaramente un essere umano, una persona non riesce a pensare con un tale livello di previsione. Dunque, se proprio vogliamo qui magari la... la butto un po' lì, eh... le capacità cognitive diverse, in alcuni sensi anche maggiori rispetto a un essere umano, possono essere una via non di creatività, ma quantomeno di trovare soluzioni non concepibili per l'essere umano. E qui ovviamente non mi rivolgo al concetto dei large language models, ho pensato anche mh alle applicazioni, alle proprie tattiche strategie, tattiche strategie e di compararle con quelle del nemico conosciute per riuscire ad elaborare delle soluzioni. Quindi qui magari chiedo anche a Luca se è una cosa... è una cosa fattibile al netto dei large language models, se si può configurare come un nuovo... una nuova modalità di creatività, se vogliamo. Perché qui allora sì che mi pare di trovare uno spiraglio in cui abbiamo un fattore di novità apportato poi da un'intelligenza artificiale che dalle proprie informazioni riesce a creare qualcosa che l'uomo non riesce a creare, non perché ha diciamo una creatività in più, ma perché ha degli strumenti in più, uno strumento cognitivo o banalmente perché a furia di fare simulazioni come per esempio su Starcraft lì era diventata bravissima, non perché fosse più brava intrinsecamente dell'essere umano ma perché riusciva a giocare talmente veloce che era come se avesse giocato per 150 anni e allora grazie si dice che diventi più bravo. Quindi non so come come la vedete su questo punto di vista. Sì cioè secondo me comunque si potrebbe configurare diciamo un futuro in cui l'intelligenza artificiale potrebbe essere considerata come qualcosa di creativo nel senso che finiremo magari per considerare la creatività non più come una roba esclusivamente umana. Probabilmente poi adesso non lo so dipende anche molto da da come saranno i progressi nel campo delle delle neuroscienze che studiano queste cose su di noi sugli esseri umani però per quanto mi riguarda sì cioè e non ci sarebbe neanche niente di particolarmente trascendentale in questo cioè si tratta proprio di una un modo molto più efficiente in un certo senso di trovare delle combinazioni a soluzioni di problemi o di di situazioni che noi esseri umani non ci arriviamo perché siamo ci siamo evoluti in una determinata maniera tant'è che infatti poi ci sono delle cose anche divertenti che succedono cioè ci sono delle dei momenti in cui per esempio scoprono gli algoritmi di intelligenza artificiale delle tecniche nuove sconosciute che tu dici boh non non ha idea di un essere umano non ci sarebbe mai arrivato e tipo io mi ricordo questo esempio qui che quando ero all'università la magistrale per il progetto di ingegneria del software ci avevano fatto costruire diciamo il software per decidere gli orari delle lezioni lascio immaginare il casino comunque per generare questi orari avevano utilizzato un un algoritmo genetico e questo algoritmo genetico aveva cominciato a tirar fuori delle soluzioni che cioè sì in realtà soddisfacevano tutti i vincoli però poi dopo ti ritrovavi la settimana che era fatta tipo a scalino avevi per esempio lunedì c'avevi una lezione solo a due ore poi ce ne avevi quattro il martedì finché arrivava il venerdì che ne avevi tipo dieci di seguito effettivamente aveva comunque risolto il problema dal suo punto di vista però una cosa che noi non ci avremmo mai pensato poi dici ovviamente una un orario del genere non lo userai mai perché non è non è fattibile per un essere umano d'altro canto ci sono anche invece degli casi in cui l'intelligenza artificiale finisce per scoprire esattamente le stesse cose che scopriamo noi già sta cosa mi è capitata proprio l'anno scorso avevo pubblicato un paper a Ghecco sulla sull'utilizzo di di un algoritmo di programmazione genetica quindi sempre ispirato ai principi della dell'evoluzione biologica in cui volevamo costruire delle funzioni booleane che vengono utilizzate in crittografia abbiamo parlato un pochino l'altra sera con paolo nella nella live di di enigma sulle s box comunque voi queste funzioni booleane le volete costruire in modo che soddisfino determinate proprietà e queste proprietà le potete formulare in termini di un algoritmo di ottimizzazione quindi avete questa programmazione genetica che costruisce degli alberi questi alberi rappresentano dei programmi che diciamo implementano lo svolgimento della della funzione booleana e la cosa interessante è che noi in quel paper c'eravamo effettivamente chiesti se a parte costruire direttamente queste funzioni booleane in matematica esistono già da decenni delle dei metodi algebrici per poter costruire questo tipo di funzioni con queste buone proprietà proprio metodi algebrici quindi volevamo investigare se la programmazione genetica scopriva delle nuove costruzioni algebriche che erano sconosciute i matematici e ce ne sono saltate fuori un po poi però la programmazione genetica questo difetto che da parecchi programmi parecchi alberi che evolve che in realtà corrispondono sempre alla stessa funzione solo che sono rappresentati in modo diverso quindi non te ne accorgi e tutte quelle che abbiamo siamo riusciti ottenere di costruzione alla fine sono saltate essere saltate fuori essere uguali a una costruzione che era già conosciuta dai matematici al tipo non lo so da 30 anni 40 anni una roba del genere quindi sta cosa ci aveva lasciato un attimo sorpresi perché effettivamente avevamo detto è strano che va a finire a convergere proprio sempre su quella stessa soluzione che era già stata scoperta da matematici umani molto tempo prima e alla fine scherzosamente le avevamo messo nel paper il fatto che la programmazione genetica si comportava come uno studente pigro nel senso quegli studenti che magari voi vedete quando correggete degli esami in cui cominciano a dire vabbè adesso propongo diciamo una soluzione a questo problema che però non è esattamente quella che tu vuoi che lo studente dia però la camuffa in modo da dire ok questa roba effettivamente diversa poi però in realtà se vai a scavare bene è sempre la stessa cosa l'avevamo chiamata così e tra l'altro questo mi permette anche di passare all'argomento successivo che era quello delle proprietà emergenti che appunto spesso sta roba qui dell'emergenza e ha molto a che fare con la nostra attitudine con la nostra tendenza ad attribuire qualità umane a robe che sono un prodotto del nostro ingegno ma non sono decisamente umane sono semplicemente artefatti matematici qui avevamo soprannominato la programmazione genetica uno studente pigro perché faceva il minimo lavoro dicevo ok uso già la soluzione conosciuta ma poi la camuffo per farla sembrare nuova e poi invece nel caso degli large language models è saltato fuori tutta una marea di paper negli ultimi anni su attribuire proprio delle proprietà umane che emergono diciamo dall'interazione con questi con questi modelli per esempio il fatto che siano power seeking questo è saltato fuori in particolare nella discussione con nei commenti allo scorso video con con giuseppe a tardi c'è stato questo paper se non ricordo male del 2019 in cui cominciavano gli autori a dire vabbè adesso noi consideriamo dei sistemi di intelligenza artificiale di reinforcement learning in particolare che non è esattamente cioè non corrisponde esattamente al sistemi come c'è gpt cioè c'è anche una componente di quel tipo lì ma non è soltanto quella roba lì e in pratica loro dicevano vabbè noi adesso cominciamo a definire il potere come sono andati a cercare tipo nella letteratura di filosofica proprio le varie definizioni di potere che erano in giro ne hanno pescata una che loro hanno detto beh sì questa è una delle più prominent hanno detto una delle più utilizzate che la definizione disposizionale del potere nel senso che diciamo tagliandola proprio con l'accetto tu dici che qualcuno o qualcosa ha più potere se ha più scelte disponibili e dopodiché prendevano questa cosa la formalizzavano davano una formalizzazione rigorosa matematica e poi dicevano ok adesso poi dimostriamo che algoritmi di reinforcement learning sono power seeking perché tendono sempre a muoversi verso delle policy che gli permettono di avere più opzioni per poter raggiungere i loro obiettivi però nel senso ovviamente questa roba qui non puoi renderla uguale alle nostre sete di potere umani in un certo senso al fatto che noi intenzionalmente determinate persone cercano di avere più potere primo perché magari non è una questione di avere più scelte a disposizione potrebbe essere un'altra un'altra questione potrebbe essere una questione di controllo verso altre persone e poi perché appunto si tratta proprio di una questione completamente arbitraria il fatto il punto di partenza proprio però appunto poi dopo ci sono se andate a leggere diversi articoli persone che poi dopo dicono eh no ci stanno emergendo questo tipo di proprietà che sono problematiche nei large language models e questo quindi per esempio giustifica il fatto della lettera di dover fermare tutto per per sei mesi e eugenio manca dice un pochino forzata e come è molto forzato cioè è proprio come dire decido io per per i fatti miei che ci sono delle proprietà che io tra l'altro avrò anche i miei bias cognitivi come ricerca come persona al di là di ricercatore quindi sarò diciamo avrò più tendenza a fare ricerche su determinate cose interpretare i problemi in un determinato modo finisco per prendere queste definizioni eh di potere per esempio poi gli do una formalizzazione matematica a quel punto gli dai un'aura di oggettività e no a questo punto non non va più bene cioè nel senso è una è una roba arbitraria e quindi non si può dire ok magari hanno dimostrato in quel paper che questi agenti di reinforcement learning tendono a cercare il potere nel senso di massimizzare il loro numero di scelte ehm però non non è neanche detto che tra l'altro questo numero queste scelte più numerose siano anche dannose per gli esseri umani anche quello è una roba completamente dipendente dal contesto tant'è che se poi si va a scavare bene nei paper alla fine si va a vedere che anche gli autori lo ammettono tipo nelle ultime tre righe conclusive prima di chiudere tutto ha detto vabbè sì però sarebbe da da raffinare un pochino è peccato che poi dopo ci sono un sacco di persone che finiscono per crederci e finiscono poi per farsi tutti questi castelli di carte su su questa faccenda del dell'emergenza di di cose inaspettate all'interno dei dei large language models se posso fare un commento in realtà se vuoi la cosa brutta di queste cose di queste diciamo idee sull'emergenza è che in realtà non stai vedendo quello che è il risultato veramente interessante di questi oggetti cioè rendersi conto che noi avevamo un bias noi abbiamo un bias molto forte come esseri umani cioè noi ci pensiamo di essere molto grandi per cui noi pensiamo che il fatto certe cose che noi facciamo le possiamo fare solo noi in quanto esseri coscienti dotati di un'anima di uno spirito di quello che accida il più piace cioè il fatto che una macchina certe cose non le può fare perché è una macchina perché sostanzialmente un pezzo di un pezzo di ferro in realtà la cosa interessante di chat che pt è che ci sono non tutto l'essere non tutta la capacità dell'essere umano di esprimersi ma una fetta che non dipende dal fatto di essere un essere umano ma dipende semplicemente dalla struttura da come è fatto il linguaggio quando dico come è fatto il linguaggio lo intendo in senso molto ampio non semplicemente al livello più basso il fatto che ci sa perché una frase c'è soggetto predicato il complemento che ci sono concordanze maschili o femminili che una che la capitale di uno sta quando parli della capitale dell'italia vicino c'è la parola roma e così via cioè sono tutta una serie di aspetti che dipendono semplicemente da come è strutturato il linguaggio per convenzione attraverso gli esseri umani ripeto questo è un fatto convenzionale degli esseri umani perché se io comincio a parlare mettendo il complemento oggetto al posto del soggetto e così via nessuno più mi capisce quindi è proprio semplicemente un fatto convenzionale questa struttura convenzionale che se vuoi è quella che hanno assorbito il large language models di fatto permette di ottenere di già un sistema di espressione molto potente questa è la scoperta se vuoi ed è la cosa su cui uno si dovrebbe concentrare cioè rendersi conto che non ci vuole un essere cosciente magari questo i ricercatori quelli che fanno veramente il lavoro lo sapevamo da un pezzo però rendersi conto che basta tra virgolette una struttura di raccolta di questo tipo di informazioni per fare qualcosa che si scrive in modo molto vicino a un essere umano che fa già ragionamenti che fa non dico ragionamenti però diciamo che riconosce riconosce pattern in modo abbastanza ragionevole questo si non riesce a fare il grande salto logico ma i pattern e i pattern dei pattern probabilmente li riesce a li riesce a vedere bene questo secondo me è il punto grosso e le discorsi scarsamente interessanti sulle leggerenze secondo me fanno perdere di vista questo fatto qui il problema grosso come sempre che l'intelligenza umana noi non la sappiamo fare veramente bene a ci immaginiamo infatti quello che ci siamo inventati cos'è è l'agino artificial general intelligence l'idea che arrivi qualcosa che la cui definizione cos'è è una cosa che si assomiglia ad un essere umano perché perché non ci abbiamo un'altra definizione noi ci abbiamo solo l'essere umano come punto di riferimento e quello usiamo però in realtà la cosa veramente interessante di cose tipo certifichi dire guarda questo pezzo è come fare i calcoli e come fare le moltiplicazioni te lo fa una macchina non è una cosa che richiede la coscienza non è una cosa che richiede l'anima non è una cosa che richiede un essere umano o una rete neurale a base biologica questo fatto secondo me ce lo stiamo completamente perdendo invece stiamo correndo dietro a oddio arriva sky ma su questo punto che sollevato paolo mi è venuto in mente un altro punto che era stato sollevato da max tag mark sempre in questo podcast che ha fatto con friedman che diceva è vero che a livello di neuroscienze noi non abbiamo contezza del cervello come funziona tuttavia aveva fatto questo parallelismo con il volo noi stiamo riuscendo a replicare il risultato quindi a questo punto un linguaggio comprensibile di senso compiuto anche di una certa finezza in un modo stupido usava proprio la parola dammi in modo in con delle modalità stupide perché poi hanno visto anche per esempio c'è cpt e c'è cpt e questi large language models come conservavano le informazioni mi pare facendo finta che la capitale di italiana fosse parigi invece di roma avevano scoperto per l'appunto che in realtà in tutta questa sofisticatezza a livello proprio di pensiero di concezione di comprensione non c'era ma lui diceva ok la comprensione non c'è tuttavia il risultato è il medesimo e noi ci dobbiamo preoccupare per questo sviluppo appunto esplosivo irresistibile che rischiamo di non riuscire a controllare che penso sia forse l'unico timore legittimo che c'è all'interno di questa lettera con poi tutti i commenti che si possono fare circa l'inadeguatezza dello stop di sei mesi come lo metti in atto la pericolosità di affermare che deve essere lo stato che pone uno stop alla ricerca o allo sviluppo industriale che è una cosa ragazzi andiamoci piano insomma io capisco lo spirito anche nobile alcune delle preoccupazioni sono anche legittime si dice appunto che si voleva non fermare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale appunto poi c'è anche è stato anche pubblicato a posteri una serie diciamo di facchius di domandi delle risposte alle domande delle questioni più frequenti che venivano sollevate in risposta alla lettera e una delle cose le una delle prime cose che venivano dette era per l'appunto ma noi non stiamo dicendo di fermare in toto lo sviluppo dell'IA ma solamente dei large language models più fantastico più potenti di gpt4 per permettere appunto di tegmark diceva di favorire lo sviluppo il catching up della della saggezza degli umani della comprensione umana ecco quindi secondo me un nucleo se vogliamo un nocciolo di intento nobile c'è completamente esposto in modo completamente sbagliato con degli strumenti assolutamente inadeguati come avevamo già sottolineato all'inizio dopo tutto che viene già delineato un'intelligenza artificiale che ruba al lavoro anche quello più soddisfacente nobilitante per l'uomo quando in realtà stiamo parlando stiamo parlando di di tutt'altro poi si è visto ad esempio uno dei firmatari uno dei uno dei primi nomi era Elon Musk che poi tre giorni fa ha annunciato la propria azienda di sviluppo di intelligenza artificiale ex AI io tra me e me l'avevo anche pensato ma non ci voleva un genio per capirlo che non è tanto fermiamo lo sviluppo ma fermatevi che vi raggiungo quindi insomma l'intento può essere buono il risultato è quello che è e mi viene in mente come parallelismo perché nel 2016 lo stesso istituto che comunque si preoccupa di questo tipo di questioni la lettera per fermare lo sviluppo delle armi autonome per mezzo di un di un divieto preventivo a livello di sviluppo a livello di implementazione che anche lì si prefiguravano degli scenari apocalittici catastrofici di macchine che causavano guerre per i fatti loro mi pare che anche Andrea Gili l'avesse menzionato in una live che era stata fatta anche con mi sembra che ci fossi anche tu Paolo anche con Michele e insomma c'è questa tendenza a andare un poco oltre e quindi ed è un po' la sindrome di cui sopra tutto il discorso sull'intelligenza artificiale Allora se posso fare un inciso rapido allora io capisco che le persone si guardino i telefilm americani e si vedono gli informatici che si mettono lì alla tastiera digitano i computer e gli rispondono subito funziona sempre tutto eccetera siccome io l'informatico lo faccio vi dico che è sempre un delirio di tenere le cose in piedi e più sono grosse e più c'è gente che sta esseri umani che stanno delirando per tenerle in piedi quindi a me l'idea dell'intelligenza artificiale che funziona sempre perfettamente riesce a far tutto e un sinchio da mai la devo ancora vabbè è curioso di vedere questa cosa che non prende un blue screen on death non gli si pianta tutto eccetera ha detta la battuta però e credo che il punto un po' più su cui potremmo adesso muoverci e quello se vuoi un po' più concreto e forse anche un po' più interessante è quello di dire dice vabbè non ci rimpiazzano come esseri umani continuiamo a fare noi la specie intelligente del pianeta e ma il lavoro fondamentalmente che è un po' l'argomento che non abbiamo toccato e magari ci chiamo gli ultimi dieci minuti della nostra live e il lavoro il rimpiazzo del lavoro e così via io do due minuti la mia opinione vai il lavoro tutte le innovazioni tipicamente per definizione sono fatte per levare il lavoro a qualcuno non è che uno fa l'innovazione per lavorare di più per lavorare di più fa l'innovazione tipicamente per levarsi per lavorare di meno cioè per avere o per lavorare di meno io o per levarmi un lavoratore che non mi serve per metterci al posto su una macchina sostanzialmente questo diciamo è l'idea generale e l'obiezione che si fa che quella di dire ma queste cose avvengono molto velocemente per cui questo genererà un problema di rimpiazzo ci potrebbe anche stare ma uno è un non sequitor se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro e noi e non esiste un controllo sufficiente a livello planetario da impedire non è che possiamo andare dai cinesi e dirgli no voi non fate l'intelligenza artificiale perché noi abbiamo deciso che noi vogliamo continuare a fare le cose a mano non funziona è improbabile ma soprattutto perché quello che abbiamo imparato è che paradossalmente tutta questa innovazione permette l'emergere di tutta una serie di competenze di cose di slack l'esempio banale noi siamo tutti noi che siamo in questa chat facciamo cose che 50 anni fa non si facevano anche se diciamo 60 non c'erano esperti di informatica men che mano esperti di criptografia esperti di sistemi d'arma autonomi guidati da intelligenza artificiale non erano assolutamente cose noi facciamo mestieri che sono nati proprio in seguito alla tecnologia ovviamente va a capire cioè il punto è come sempre se tu ti metti in fondo alla coda ti prendi i colpi di coda cioè ti prendi il fatto che ci sono sei l'ultimo della ruota sei l'ultimo del carro e quindi necessariamente prendi tutti gli scarti e tutti i problemi in fondo se ti metti davanti puoi cercare di guidare un attimino di raccogliere per primo i benefici di poterne gestire la ridistribuzione all'interno del tuo paese questo fatto in Italia in generale in Europa in particolare in Italia questa consapevolezza l'impressione che manchi completamente sì in realtà su questa faccenda del lavoro che viene dei lavori che verranno rimpiazzati eccetera avevo visto anche lì un commento di Harvey Narayanan che diceva in realtà anche qui stiamo già cominciando a mettere il carro davanti ai buoi ma tipo di di un chilometro perché finora l'evidenza che abbiamo principalmente ci viene guarda caso da paper e anche paper da preprint che quindi non hanno neanche passato il processo di peer review caricati su su siti come Archive che sono scritti da gente di OpenAI e che dice ah sì beh certo qui adesso prediciamo comunque in base alle nostre evidenze sperimentali che abbiamo tramite GPT4 che comunque un sacco di lavori potranno essere rimpiazzati qual è il problema questo era il primo report che avevo visto in merito e qual è il problema che per capire cioè per inferire questa cosa i ricercatori di OpenAI si mettono a testare l'abilità di chat GPT o di GPT4 insomma a passare determinati esami professionali e qual è il problema con questa cosa ci sono diversi problemi il primo è che passare un esame professionale non è affatto una condizione sufficiente per dire ok allora sono buono a fare quella professionale e penso che questa sia una roba abbastanza pacifica e banale la cosa invece che è un po' più diciamo davvero fa pensare che o sono dannatamente ingenui e sprovveduti nel fare gli esperimenti oppure mi viene da pensare ci sia un pizzico di malafede finiscono per fare gli esperimenti in modo sbagliato nel senso che nel corso di questo paper si va a vedere che e questo è stato analizzato molto precisamente da Darwin Narayanan si vede sostanzialmente che quelli di OpenAI hanno fatto una cosa che in genere nel machine learning non dovresti mai fare e cioè mischiare il training set con il testing set nel senso l'insieme il dataset che utilizzi per addestrare il tuo modello finisce poi per essere anche lo stesso contro cui vai a fare le valutazioni quindi in pratica è molto probabile visto che il dataset che hanno dato per addestrare GPT è così grosso perché hanno davvero dentro una marea di roba di testo è molto probabile che esami professionali molto simili o magari esattamente gli stessi che poi dopo gli hanno dato dentro per fare la valutazione fossero già stati visti all'interno del training set durante l'addestramento e a questo punto si tratta soltanto di una questione di recall cioè non è proprio non è niente di originale semplicemente sta facendo proprio un recupero diciamo dalla propria memoria implementata attraverso i vari pesi che sono stati addestrati durante il processo di training e va a ripescare esattamente quelle cose lì poi magari ci sono delle variazioni piccole ma sono cose su cui poi dopo il sistema riesce a facilmente ad adattarsi quindi il problema è che non abbiamo neanche modo di capirla sta cosa qui per certo perché cioè abbiamo una buona evidenza ma il problema fondamentale è che poi OpenAI mica ha rilasciato in open source il proprio modello cioè non sappiamo com'è stato addestrato abbiamo soltanto delle idee che ci vengono un pochino dai paper che hanno pubblicato loro ma in realtà è un modello che è completamente chiuso da un certo punto di vista e la faccenda della chiusura è anche un altro dei grossi problemi di questi modelli qui che sono molto più a breve termine cioè se non sono trasparenti se manca trasparenza non c'è neanche modo di capire esattamente cosa stanno facendo quindi a maggior ragione dice al di là dei comportamenti emergenti che dice vabbè già quelli sono mal definiti in un certo senso ma non hai neanche un modo per cercare di capire come mai queste cose succedono se non rendi il tuo il tuo modello aperto e quindi la faccenda sul fatto che i lavori potrebbero venire rimpiazzati in futuro in realtà mi sembra che anche qui al momento l'evidenza sia ben poca e tra l'altro viene tutta da una fonte che dire che ha un conflitto di interessi è un eufemismo ecco visto che viene da OpenAI comunque non so se avete altre considerazioni voi in merito sì in realtà io avevo qui un altro paper ma comunque sempre con OpenAI che dimostrava con questo parametro quello che mi hai passato nella ciazza giusto? allora aspetta che lo apro e lo metto che dimostrava lavorando questo parametro dell'exposure quindi dell'esposizione e sostanzialmente affermava che ci sono un gran numero di mansioni di lavori che GPT4 può svolgere in modo più efficiente a parità di efficienza ma nella metà del tempo essenzialmente e questi lavori sono essenzialmente lavori ad alto investimento intellettuale quindi anche i lavori meglio retribuiti e aveva causato abbastanza insomma un po' di dibattito preoccupazione però anche qui si tratta non tratta quello che comunque Paolo aveva sottolineato non si menziona la stabilità la fidabilità di questi modelli anche perché comunque ad esempio GPT mi ricordo mi pare Samsung era andata nei guai perché dei dati riservati erano stati mandati 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 in pasto cioè CPT e poi chiaramente sono andati via quindi e poi anche la questione della black box che hai menzionato tu Luca quindi che noi non conosciamo esattamente l'euristica il processo il pattern che poi il modello impiega per arrivare a un determinato output è un problema secondo me è il problema perché non permette anzitutto di comprendere di comprendere a fondo il modello ma anche di non capire nel momento in cui qualcosa vada effettivamente storto quando abbiamo un output non desiderabile come riuscire a diciamo in retrospettiva capire come come sistemare la faccenda e poi c'è anche tutta una questione che era stata credo sollevata nei commenti della responsabilità perché poi la responsabilità legale questo mi viene in mente per molti discorsi anche fatti nell'ambito nell'ambito militare anche del diritto internazionale umanitario del la colpa a chi la do al policymaker che che decide di che decide di implementare un determinato un determinato software al comandante che ha dato che ha dato l'ok al al programmatore che non è stato sufficientemente non ha usato sufficiente perizia nella non lo so il problema della parcializzazione della colpa è estremamente spinoso quindi questo chiaramente in un ambito high stakes come quello chiaramente militare ma è parimenti applicabile nella medicina per esempio io ho visto un tool che per l'amor di Dio al cui ingresso ti dicono no questo è fatto solo per i medici non si intende assolutamente come tool di autodiagnosi però che al fronte dell'inserimento di alcuni sintomi ti dà una diagnosi non sono sicura perché non l'ho usato poi potrebbe addirittura dare delle indicazioni terapeutiche e qui una terapia sbagliata anche qui i rischi sono è in fine dirlo sono estremamente alti quindi anche qui molto molto piano ma anche banalmente un documento legale redatto con termini errati un contratto che non viene che non viene redatto con le giuste clausole può portare a dei disastri quindi dire che l'intelligenza artificiale sostituisca l'essere umano mi pare veramente penso che sia veramente un inizio infelice di quella lettera perché vogliamo dire che la parte d'amanuense venga diciamo assolta dall'intelligenza artificiale benissimo poi sfido chiunque a dare fiducia fino in fondo all'intelligenza artificiale sull'output io una rilettura all'output te lo darei come minimo poi non so allora io ti dico la mia diciamo esperienza e la mia aspettativa nel senso cosa ovviamente lì questo non credo ci sia un'intelligenza artificiale che sostituisce un Paolo Bizzarri sicuramente non è la parte che dice pesserie però c'è un pezzo di intelligenza artificiale che piazza un braccio una mano un piede di Paolo Bizzarri nel senso che ci sono una serie di attività che io faccio per esempio come sviluppatore software che compongono la mia attività di sviluppatore software e che oggetti come chat GPT possono effettivamente fare in modo molto più efficiente e molto più pratico se andate su Twitter trovate la gente che si vanta di fare sette lavori usando chat GPT vero o falso che sia anche se non è vero anche se fa se uno riesce a automatizzare il 30 o il 40 per cento della sua attività quotidiana questo fatto ha un impatto sulla produttività mostruosa cioè un aumento del 30 per cento della produttività qualcosa che sulla forza del lavoro è qualcosa che tutti gli amministratori si sognano la notte quando diciamo hanno i loro sogni favoriti il punto vero è che la cosa io mi aspetto che siano questi tipi di aumenti di produttività un po' come c'è stato se vuoi con la prima informatica non è che hai sostituito tra virgolette la segretaria c'era quello comprati Word e sostituisci la segretaria e questa era la pubblicità molto progressista molto equilibrata che girava però il problema il punto è che ovviamente c'è stato un pezzo del lavoro che svolgevano tipicamente le funzioni di supporto che è stato rimpiazzato dai computer quindi in realtà complessivamente diciamo una serie di lavori sono spariti ma non perché è stata rimpiazzata la segretaria perché di cinque segretarie te ne bastavano due a quel punto sostanzialmente perché di fatto tutta una parte di lavoro manuale è sparita ecco io credo che quella cosa lì mentre diciamo l'idea di c'è qualcuno che viene rimpiazzato dal computer to cure c'è no c'è una fetta di lavoro mia che viene elevata e poi di tre paolo se ne fanno due questo mi aspetta non di sostituzione assolutamente e credo che questo sia un punto che viene molto frainteso per una molteplicità di motivi ma si tratta proprio di questo come tu ho sottolineato questi sistemi da soli non sono sufficienti per limitazioni per i problemi di cui abbiamo parlato quindi sì l'esempio della calcolatrice in realtà è molto calzante siamo alla calcolatrice 4.0 se vogliamo abbiamo uno strumento in grado di efficientare quei lavori di passatemi il termine di manovalanza intellettuale ok che sono diciamo abbastanza ripetitivi abbastanza anche non dico bassa levatura però comunque dei lavori che non non implicano creatività l'investimento in questo senso come il programmatore mi viene in mente ci sono dei programmatori che stanno utilizzando CACPT in modo estremamente proficuo ma non perché deleghino qualsiasi cosa perché quelle parti del coding che sono estremamente ripetitive e noiose sono talmente ripetitive e diciamo a prova di proiettile che possono essere delegate allora certo che questa cosa ti velocizza il processo ma quello che sta facendo CACPT è quello che veniva fatto in passato da uno che era abbastanza sgamato da programmarsi da solo qualcosa che automatizzava i processi solo che adesso e se vogliamo è proprio questa la caratteristica di diciamo di novità di rompente e che sono alla portata di tutti poi vogliamo anche vedere con le API rilasciate adesso addirittura era stata rilasciata la prima API con licenza commerciale quindi che permette la replicazione di questi strumenti a livello a livello di privato o a livello a questo punto di azienda perché quello di Stanford poteva essere utilizzato solo per la ricerca quest'altro che adesso mi sfugge completamente il nome può essere utilizzato per costruire in house anche software a licenza commerciale e caspita questa è la rivoluzione però nessuno si immagini che c'è un'azienda con i cui dipendenti sono solo intelligenze artificiali fallisce una mattina dopo tre ore dopo quindi anche qui la lettera secondo me fa un allarmismo totale che non ha troppo senso come ripeto qualcuno forse all'inizio nei commenti mi pareva di aver letto se avesse senso fare sei mesi anche qua la tempistica arbitraria perché poi volendo anche essere moderatamente ottimisti di un consesso internazionale che possa affrontare questo problema benissimo i sei mesi non riescono neanche a organizzare la prima seduta perché guardiamoci in faccia è assolutamente senza senso va bene la paura della crescita esplosiva però insomma siamo di fronte a qualcosa che magari non siamo troppo pronti ad affrontare ed è un'altra cosa che un pensiero che mi era venuto prima lo butto lì poi mi taccio se avessimo affrontato qualsiasi evoluzione tecnologica nella storia come stiamo affrontando questa allora non avremmo avuto la stampa perché chissà cosa succederà quando stamperemo i libri per tutti e tutti leggeranno secondo me non è andata così male sì esatto poi è vero ci sono puoi sempre vederlo anche dall'angolo dici vabbè l'invenzione della stampa a caratteri immobili poi dopo ha permesso la diffusione della nascita la diffusione del protestantesimo il che poi dopo ci ha regalato anche un paio di secoli di guerre religiosi in Europa però dici ok però non è soltanto quello che è successo quindi star lì a fare come dire i dubbi all'inizio ma poi al di là di questo c'è proprio anche l'idea di volerla fermare e di volerla contenere in questo modo è proprio molto naive e mostra che proprio chi ha firmato quella lettera non ha molte non ha molta cultura diciamo di gestione del rischio come si intende nel campo della cyber security o delle cose di sicurezza in generale perché fanno l'accostamento fanno il parallelismo con la tecnologia nucleare o con gli esperimenti di gain of function o comunque sulla clonazione sul DNA ricombinante su cui effettivamente avevano messo delle moratorie a un certo punto durante la guerra fredda però il problema è che quel tipo di tecnologie non sono così facilmente reperibili come lo potrebbe essere invece un large language model che appunto adesso stanno lavorando per rendere più compatto e renderlo usufruibile anche da uno smartphone o una bomba nucleare la stessa cosa non è che dici vabbè prendo un po' di plutonio prendo una centrifuga e a posto così è un po' più complicato di così quindi in quel caso il controllo attraverso diciamo l'intervento degli stati così che esercitano proprio un controllo attivo su come vengono sviluppate queste tecnologie ci può stare in questo caso quello che vedo io dalla mia esperienza è che potrebbe essere una roba simile a quello che successe con le crypto wars negli anni 90 cioè quando si cercò di controllare l'esportazione di algoritmi di criptografia fuori dagli Stati Uniti e anche dentro degli Stati Uniti perché se no poi dopo erano troppo difficili da craccare per per l'NSA per la CIA per le varie agenzie di enforcement e questa cosa non gli andava bene ovviamente questa cosa è stato un bluff totale perché non è non è funzionato in pratica tant'è che c'erano le barzellette forse trovate perfino l'immagine su Wikipedia se ricordo bene se google e se cercate crypto wars della gente che andava alle conferenze passava la dogana passando una volta passata la dogana si toglieva la felpa e mostrava la maglietta con su il codice per programmare RSA tipo in perlo o qualcosa del genere ho detto ah sono riuscito a contrabbandare un'arma fuori dal dal suolo statunitense quindi cioè nel senso riuscire a mettere fare delle moratorie sugli algoritmi sulla matematica è una roba che è davvero molto velleitaria impossibile da fare così a occhio quindi non penso proprio specialmente poi in sei mesi cioè in sei mesi la cosa che vuoi vai scusami Paolo vai fuori dicevo io credo che il problema vero sia il fatto non è tanto il fatto che sono usciti questi language models adesso perché in realtà io non me ne occupo però parlando con persone che se ne occupano ad esempio a Tav di quello che ti dice dice guarda questa roba sono anni che lo sappiamo che arriviamo a questo punto qui se prendiamo in realtà la cosa interessante di chat GPT non è tanto che è che ha un'interfaccia molto carina è molto semplice da usare cioè è un prodotto molto ben fatto è un prodotto completo ben impacchettato completo diciamo non è il classico accrocco da hacker che devi tirare le martellate per fargli fare le cose è un oggetto fluido questo cosa comporta comporta l'effetto se vuoi massa per cui improvvisamente ci sono un milione di persone che si buttano lì sopra e fanno cose che i tecnici non avevano mai pensato di poter fare cioè lì comincia l'esempio classico sono i prompt done che avrete visto quelli prompt do anything now che sono cose che riescono a superare quelli che sono i limiti che vengono imposti normalmente per tutta una serie di ragioni a chat GPT e gli fanno fare cose diverse allora l'impressione è che questo ha scatenato se vuoi la lettera cioè il fatto che si cominci a vedere tutta una serie di applicazioni di possibilità di idee che sono fuori fuori dal controllo di queste persone delle persone che scrivevano fondamentale perché non era più un argomento se vuoi a livello di puri ricercatori no non è più la cosa di cui discutiamo alla conferenza è qualcosa che è in the wild e in cui non abbiamo più il controllo non abbiamo più non capiamo più cosa succede non siamo più in grado di capire infatti sembra più una cosa del tipo o noi dobbiamo fare ketchup su queste cose qui perché non ne stiamo più capendo cioè stanno uscendo fuori troppe cose e noi non riusciamo più a capire in questo senso io la trovo abbastanza belletaria queste come se vuoi a me sembra di essere tornati quando è arrivata internet cioè che cominciavano ad uscire le cose più strane però erano le cose interessanti no cioè è un mondo che è effervescente ovviamente c'erano anche all'epoca oddio cosa succederà con internet oddio cosa oddio ci sono i pedofili oddio ci sono i terroristi oddio ci sta ti compri la droga oddio le soldi lo stesso giro diciamo di cose tutte le nefandezze possibili erano attributi però nell'occhio di chi la guarda perché alla fine i prompt do anything now non è che se le inventate c'è il cbt stesso voglio dire come ogni tecnologia può avere degli utilizzi non propriamente benefici però non è che allora perché qualcosa può essere utilizzato in modo negativo allora è negativo in toto è questo è questo il problema magari nell'IA un po' esacerbato c'è un paper molto interessante che ho letto che definiva di A come una general purpose technology che ha una sua caratteristica ovvero può essere implementata al pari dell'elettricità in più cose cioè non è come alla fine l'energia il nucleare è vero può essere utilizzato per essere estremamente distruttivo o per creare energia ma non è che tu puoi nuclearizzare tutto ok qui invece viviamo in un mondo in cui se prima il mondo poteva essere elettrificato adesso il mondo può essere per utilizzare un termine preso in prestito dai cinesi intelligentato bruttissimo in italiano però è questo e va bene voler comprendere voler controllare il fenomeno però non è questo non è questo il senso che poi il problema dello sviluppo di questi strumenti connaturato al come diceva Luca è il fatto che tu non puoi mettere una moratoria sulla matematica sullo sviluppo di questi strumenti e lo sviluppo software nel momento in cui non è il codice sorgente non è come nello sviluppo industriale che puoi fare spionaggio puoi vedere materialmente lo stato dello sviluppo non so adesso mi viene in mente in ambito militare di una porta aerei di un jet di un qualcosa voglio dire puoi fare un minimo di spionaggio perché ci sono tutte le dovute misure per mascherare per non fare vedere alcuni punti focali fondamentali però col software questa cosa è quattro volte peggio se vogliamo potrebbe essere anche un elemento che va ad esacerbare poi anche se vogliamo non voglio chiamarla corsa alle armi perché non è una corsa alle armi ma proprio l'ansia di un paese come gli Stati Uniti e la Cina che sono in competizione tra loro che temono che l'avversario sia effettivamente più avanti perché come parametrizi come valuti lo sviluppo lo ha valuti nelle applicazioni forse però le applicazioni non riflettono per forza lo stato dello sviluppo e quindi questo genera un ulteriore strato di incertezza che se vogliamo non c'era sinora quindi è vero che l'intelligenza artificiale come tecnologia ha delle caratteristiche sinora non è mai vista prima perché è vero ma trattarla come se fosse l'armageddon come se davvero se non se non facciamo niente ci travolgerà mi pare un po' un po' oltre quindi in realtà io in realtà sono d'accordo se non facciamo niente ci travolgerà ma nel senso che qualcuno la utilizzerà come tante altre tecnologie per fare cose migliori e noi resteremo indietro cioè è come dire che non aver partecipato al Genome Project ha lasciato indietro tutta la ricerca dell'industria biomedica italiana per 20 anni è vero e come non aver fatto la ricerca sulle staminalità ha lasciato indietro sulla ricerca biomedica la ricerca cioè e se tu i progressi tecnologici li lasci ad altri altri ne rietrarranno i benefici e poi guarda caso svilupperanno redditi superiori e avranno impatti economici migliori sulla propria economia per certi anche garantiti questo lo lascio non mi permetto dei confronti però però diciamo il problema e poi vero è quello ed è il punto su cui si dovrebbe un po' concentrare secondo me la discussione non tanto sul dire oddio cosa succede ma che cosa ce ne facciamo perché di cose da farce ce ne sono tante e infatti volevo chiudere proprio con questa citazione dotta in un certo senso questo è tipo forse il primo vero e proprio paper sull'intelligenza artificiale che venne fatto da un certo signore di nome Turing e e alla fine di tutta questa spattafiata molto interessante in realtà lo consiglio di leggere però dice vediamo dov'era la fine eccola qua dice che possiamo vedere soltanto a una breve distanza di fronte a noi ma già lì dalla breve distanza possiamo vedere che c'è un sacco di roba un sacco di problemi da risolvere quindi senza neanche star lì a tirare in ballo poi dopo tutti gli altri problemi di lungo termine di che cosa potrebbe succedere l'armageddon eccetera in realtà abbiamo davvero un sacco di problemi da risolvere in merito all'intelligenza artificiale al giorno d'oggi sia a livello tecnologico sia a livello di impatto sociale economico eccetera eccetera quindi diciamo la mia valutazione finale di questa lettera è proprio davvero un un no no ecco no assolutamente ma infatti questa frase secondo me è perfetta perché un po' come con tutto si naviga a vista non si può pretendere di fare valutazioni su un periodo di tempo troppo lungo perché banalmente entrano in gioco una serie di fattori di variabili su cui non abbiamo non abbiamo controllo ma non abbiamo neanche la la contezza quindi si procede passo per passo si comincia a affrontare il problema della dell'esplicabilità dei modelli per esempio si comincia ad affrontare il non so il problema della loro affidabilità e ridurne le allucinazioni e piano piano si va avanti andare come fa ma è proprio una sindrome che hanno al Future of Life Institute guardare cent'anni da ora è nobile però bisogna veramente per arrivare ai cent'anni bisogna partire dall'oggi non si può pretendere di scavalcare il tutto non so se avete presente il meme del tizio che sale scale fa quattro scalini una volta sola loro stanno tentando di fare quello cioè dal large language model stanno arrivando a Terminator che che distrugge l'umanità ed è quello che intendevo io che la lettera diceva farsi travolgere non farsi travolgere da qualcuno che utilizza l'intelligenza artificiale prima di noi assolutamente d'accordo ma dall'intelligenza artificiale stessa sembra quasi che ci sia questa visione ma chiediamo anche ecco un errore che secondo me fanno è dare agency cioè per quasi dare una personificare l'intelligenza artificiale quasi darle una una volontà non ce l'ha è uno strumento trattiamolo come uno strumento non perché allora può parlare allora oddio mi pare ho visto un video giusto per chiudere con un aneddoto di questo robot robot che collassa dalla fatica dopo una giornata di lavoro avrà avuto un malfunzionamento ci sarà stato del oppure veramente l'hanno caricato troppo non è che collassato dalla fatica un robot ragazzi senza cielo cioè queste ricordano anche quelle cose su quei video tipo della della Boston Dynamics quando facevano quei robot che vengono utilizzati dai soldati poi tipo come muli robotici per portare in giro delle cose ed era interessante vedere la reazione delle persone quando vedevano tipo dei soldati che prendevano a calci questo questo mulo qui e aveva diciamo delle simbianze poi per potersi rimettere diciamo in piedi eccetera che in qualche modo ricordavano un pochino quello di un animale vero che provocava poi pena negli spettatori che vedevano sta cosa qui perché poi dopo anche noi appunto a livello dei nostri bias personali cognitivi o proprio anche come ci siamo evoluti siamo portati a interpretare determinate cose animate che si muovono come se effettivamente fossero delle cose vive o poi in realtà invece non è non è niente di che la stessa cosa è anche quando gli si attribuisce intenzionalità gli si attribuisce qualità umane quando in realtà non ce ne sono allora permettetemi di chiudere con due due battute la prima è questa è interessante notare come tutte tutti quelli che danno agenzie assumono molto particolarmente un'agenzia malvagia per queste intelligenze artificiali cioè questi sono tutti cattivi fondamentalmente sono tutti SkyNet non c'è io vorrei vedere qua dov'è diciamo il il male in questi esseri in questi presunti esseri cioè perché di default devono essere malvagi non c'è se vogliamo niente che implichi nei nostri ragioni ammesso che possano voler assumere il potere non c'è nessuna indicazione che lo vogliono fare a scopi malvagi d'accordo questa è la prima indicazione la seconda indicazione questa è molto da libro di fantascezza se anche fosse questo il caso se questi diventano creature intelligenti che diritto abbiamo noi di bloccarne lo sviluppo e la riproduzione essendo essi creatori intelligenti ora ovviamente qui stiamo andando nel filosofico e nei libri di fantascienza però siccome loro sono quelli che fanno e siccome sono loro che parlano delle cose di più a cent'anni dico va bene però allora parliamo delle cose di più a cent'anni non parliamo delle cose ma io ho letto un articolo non ricordo più su quale testata ma che si che già si pensava di dare loro delle protezioni a livello non so se legale devo ripescarlo era una roba pazzesca le macchine sono le macchine intelligenti sono tra noi dobbiamo pensare di dare loro delle protezioni a livello etico di diritti volevano attribuire loro di diritti ho detto ok e diciamo sì c'era la famosa causa dell'ex impiegato di Google che sosteneva che è uno dei suoi l'articolo dell'intelligenza e quindi e quindi allora queste secondo me sono ancora cose puramente di fantascienza però sono interessanti perché aiutano come avevo detto all'inizio a capire che quella lettera è costruita sostanzialmente con avendo già in testa la risposta che ti vuoi dare per cui le domande che ti fai sono in realtà domande molto loaded questo è quello che in realtà come abbiamo detto avete detto molto bene anche voi e questi oggetti sono oggetti che hanno scopi obiettivi molto limitati pongono problemi molto specifici oggi e sarebbe molto più interessante andare a provare a concentrarsi su tutti i problemi che pongono oggi piuttosto che sui fermarsi sei mesi e pensare ai problemi che forse ci potranno porre fra 20 o 30 anni io mi sentirei di dire che questo potrebbe essere un punto di arrivo della nostra chiacchierata si d'accordo concordo allora io chiuderei dicendo ringraziando sia Luca sia Alessandra per questa bellissima chiacchierata e rinnovo l'invito a tutti che se non siete ancora iscritti a Liberi Oltre guardate che vi levano l'accesso a chat GPT no non è vero però comunque iscrivetevi a Liberi Oltre perché ci sono intelligenze a base biologica che fanno cose interessante e se non siete iscrivetevi al canale STEM e in ogni caso mettete like e fateci sapere cosa pensate del video e grazie e alla prossima grazie a tutti e alla prossima buona serata ciao